Lunedì 26 aprile le scuole superiori che hanno riportato in classe ad oggi il 50% degli alunni dovranno aumentare le percentuali di studenti che effettueranno le lezioni in presenza. Le indicazioni del governo prevedevano per le zone rosse la scuola in presenza alle superiori dal 50 al 75% e in zona arancione e gialla dal 60 al 100%. Una decisione che aveva incontrato le perplessità delle regioni, compreso il Piemonte e del mondo della scuola, con le vaccinazioni del personale interrotte per dare priorità agli anziani e il nodo dei trasporti ancora è risolto. Il Piemonte, che ha numeri da zona gialla, per questi motivi propenderà per far rientrare il 60% degli studenti mentre gli altri proseguiranno in DAD. Con la percentuale del 60% si mirerà a riportare in classe più di 2.500 alunni e a questo punto sarà compito dei dirigenti scolastici scegliere quali classi privilegiare. Considerando che giugno, mese degli esami di maturità si avvicina, esporre i maturandi a rischio contagio potrebbe decimare le classi in vista dell'esame e si rischierebbe di buttare all'ortiche 5 anni di preparazione con un solo contagiato. Una soluzione potrebbe essere quella suggerita da Riccardo Calvo, dirigente del Belbo di Casale, che propone per gli alunni di quinta la didattica a distanza almeno negli ultimi 15 giorni di preparazione dell'esame, ben sapendo che con le minori restrizioni previste dall'entrata in zona gialla non sarà comunque la scuola ad essere la fonte primaria di contagio. Infatti i dati che vanno dal 12 al 17 aprile vedono in provincia di Alessandria 15.652 studenti delle scuole di secondo grado tornati in classe. Solo 52 di essi, lo 0,33% del totale, è risultato positivo. Questi dati sono però condizionati dalla zona arancione, una situazione che vedeva gli studenti andare a scuola, rispettare le distanze e tornarsene buoni buoni a casa, evitando quindi possibili contagi perché segnata da una vita sociale ridotta al tragitto casa-scuola-scuola-casa, ben diversa la situazione in zona gialla, con possibilità di spostamento meno rigide.